Vinitaly non è soltanto la più grande vetrina dei vini nazionali e internazionali, è anche un luogo di valorizzazione e di promozione dei sapori dell'agroalimentare. Noi siamo all'interno del padiglione Sol Agri-Food ed è qui davvero che trionfano le tipicità del nostro territorio e chi troviamo l'oro di Pantelleria, l'azienda Cason, produttrice di capperi e non solo. Come raccontate questa esperienza qui in fiera? Beh Verona per noi è rappresentata un trampolino di lancio soprattutto qui al Sol Agri-Food dove ci ha visto due anni fa essere premiati con il cappero croccante da Paolo Massobrio, un riconoscimento che quest'anno abbiamo riproposto con le foglie di cappero sempre croccanti e sta riscuotendo da parte sia del pubblico che da parte degli esperti in materia un notevole successo. Ecco abbiamo la testimonianza di un produttore di nicchia che viene insomma dalla perla del Mediterraneo, un'isola di Pantelleria quindi piuttosto lontano ma che ci consente di dire che questa occasione, questa iniziativa davvero permette di dare spazio a tutti. Sì, è una diciamo una nicchia dove ci ha permesso di presentare la nostra piccola produzione perché la nostra è un'azienda comunque familiare dove andiamo nel nostro laboratorio a trasformare quello che è la materia prima dell'isola quindi il cappero, tutte le sue sfaccettature quindi le salse e i patè fino ad arrivare al passito, al famoso di Pantelleria. Sicuramente questo è un ottimo richiamo per venire a visitare poi la nostra terra e la nostra isola. Senza ombra di dubbio sì, è anche un trampolino proprio per incentivare il turismo sull'isola.